Lei è un coraggioso, signor pretore, ma la legge qua la facciamo noi secondo le antiche usanze. Siamo in un'isola qua, il governo è molto lontano e se non ci fossimo noi con la nostra severità, la malavita finirebbe per guastare ogni cosa, come l'olio nel grano, e nessuno sarebbe più sicuro in casa propria. Non siamo delinquenti noi, siamo uomini d'onore, liberi e indipendenti come gli uccelli nell'aria. E allora dovete essere miei alleati, Massaro. Voi sapete che gli zolfatari hanno fame e sapete anche chi ha ucciso Aleo Calogero. Aiutatemi a far riaprire la miniera e consegnatemi l'assassino di Calogero, se siete uomini d'onore. I schiaffi dei bambini sono carezze. Il mio è stato un linguaggio di pace, il suo no, e mi dispiace. Felice sera, vos scienzo. Madonna santa. Ha offeso la mafia. Madonna santa, quello è pazzo da legare. È pazzo. Ha fuoco. Ho sono Nobel... Ho cazzo. Ho cazzo. Ho cazzo. Ho cazzo. Ho cazzo. Grazie a tutti.